Risultavano in servizio, percepivano regolare stipendio, ma uscivano per faccende personali. Alcuni, invece di stare al loro posto di lavoro, passavano parte del tempo al bar, altri facevano pubbliche relazioni nella strada o qualche puntatina al circolo ricreativo. Così creavano un rallentamento nell'espletamento delle pratiche di servizi per la comunità. I carabinieri della stazione di Agnana Calabra hanno denunciato per truffa i danni dello Stato quattro dipendenti in servizio presso il comune del piccolo centro della Locride nell'ambito di un'attività investigativa sul contrasto al fenomeno dell'assenteismo sul posto di lavoro. La complessa e articolata attività di indagine è stata eseguita dai militari dell'arma, anche con servizi di osservazione e pedinamento. La procura di Locride, condividendo l'esito delle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Agnana Calabra, ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti di quattro dipendenti che avevano posto in essere le condotte più gravi e saranno chiamati a rispondere del reato di truffa aggravata e continuata in danno dell'ente pubblico, attestazione fraudolenta della presenza, in servizio, abuso d'ufficio e all'appeculato.